Un saluto a tutti quanti voi amici di G-Style, con voi c'è Stefano D'Alberto. Apriamo la puntata numero 255. Un saluto a tutti quelli che ci seguono sul digitale, ma anche su Sky e nei vari social network, quindi su Facebook, potete aggiungerci nella pagina G-Style, potete trovarci anche in streaming su nelmondostreaming.tv. La puntata odierna si apre con il nostro drone che dall'alto ha realizzato delle immagini eccezionali, sempre con lo staff di Giulio Gennari, un mix di immagini da seguire proprio in apertura. E poi ci concediamo una bellissima intervista del nostro amico e collega Merico Carissimo a Moreno, cantante che avete seguito sia ad amici che poi nel suo esploi anche Sanremese. Seguiamo anche uno shooting fotografico, sempre del nostro Giulio Gennari in studio, un backstage fotografico con il Pescara White Wedding, l'evento che si svolgerà ad agosto, quindi tornerà nel pieno centro di Pescara. E ancora siamo stati con le nostre telecamere al Penelope a Mare, con la presenza di Ananè Vega, per poi seguire direttamente a Milano con le telecamere di G-Style anche la sfilata di Carlo Pignatelli. Seguiamo anche uno shooting fotografico in questa puntata con bimbi e mamme e per concludere l'incrocio, evento di beneficenza con Luca Aceto. Buona visione con G-Style. Buona visione.